Signori e signore, ecco a voi le bollate magiche e i porcini giganti della mia ultima avventura. Questa è la magia dei boschi austriaci. Buona visione. Eh sì. Eh sì, questo è proprio figo. Questo è proprio un figo. Che roba. Che roba. Ma quanti, ma quanti, ma quanti porcini. Guardate un altro po', a distanza di qualche metro dall'altro. Assurdo. Assurdo. Un po' tutti mangiati, però veramente troppo divertente. Guarda che roba, ma guarda che roba questo. Bello. Questo qui è stupendo. Cioè, guardate dove è cresciuto quel porcino qua. Dentro una pianta praticamente. Qui qua, qualche metro. Ammanite. E ovviamente porcino. Ragazzi, scusate se vi interrompo, ma volevo farvi sapere che più del 97% di voi guarda i miei video senza iscriversi al canale. E a voi non cambia niente, ma per me è importantissimo. Quindi, se i video vi piacciono, iscrivetevi e io vi lascio il video. Poca roba. Molta poca roba. Ah, questo è fatto, lo lasciamo qua. Mettiamo questo. Bello. In mezzo al bosco, ragazzi. Guardate cosa sta nascendo. Guardate. Cosa sta nascendo. Bellissimi. Assurdi. Guardate. Che, che, che spettacolo. Allora Gianni. Qui? Bisogna. Che, che bello questo. Assurdo. Ma che roba. Va che bombolino. Che figata. Che spettacolo. Guardate questo. Che figata. Top. Guardate che roba. Guardate che, che spettacolo. screen è un spettacolo. Sempre ai bordi della strada. Guardate questo qua che bello. Eh sì. Non tanto che c'è qualche tuono, l'ho visto da qua. L'ho visto da qua. quel signore qui. Quel signore qui. Quel bel signore qui. Il signorotto. Mangiato dal capriolo e dalle lumache. Però, bellissimo. Ho la distanza di qualche metro da questo. Che era lì. Il fratello qui, ragazzi. Scusi. Sbocciate adesso. Bello, bello. Bello, 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 ragazzi. Ragazzi, direttamente in strada. Porcini in strada. Guardate che roba. Guardate che spettacolo. Guardate che due papaveri. Che ci sono? Uno. Senza che mi ammazzo. E uno, due. Ma che roba. Bellissimi. Gran bollation, eh questa? Una zona molto buona. È al fianco delle strade. Giù a basso. Come potete vedere, uno qua. Un altro lì. Veramente belle. È bello. Che spettacolo. Guardate. Che giganti. Se siete arrivati fino a questo punto del video, io vi ringrazio. Dai porcini dell'Austria non è tutto, perché manca ancora un episodio. E come i precedenti ve lo metterò solo se questo video arriva a 200 mi piace. Quindi spolliciate e io ve lo caricherò. Ci tenevo a ringraziare molto, ragazzi, per i mille iscritti. E per questo vi sto portando in posti sempre più belli con funghi eccezionali. In questo caso purtroppo sono arrivato in Austria a fine buttata, quindi purtroppo i funghi non erano super freschi, però comunque super divertenti. Quindi iscrivetevi perché più siete e più io vi posso portare in posti più fighi e i funghi sicuramente saranno molto più divertenti da vedere. Nel terzo episodio non perdetevelo perché ci saranno delle vere e proprie mareggiate di finferli, mari di due metri per due, di solo finferli gialli. Quindi spettacolare, un sogno a occhi aperti. Quindi rimanete connessi e noi ci vediamo in un prossimo video. A presto. Ah, e chi è arrivato fino a questo punto del video se lo merita, sono stato vicino all'Ience a funghi in Austria. Ci tenevo a farvelo sapere. Ah, e ovviamente i funghi più belli saranno nel terzo episodio. Ciao.